Il Tam Tam si era diffuso ieri nel pomeriggio ed ha trovato conferma in alcune foto successivamente apparse sui social network con il giornalista Andrea Agresti immortalato al Bar Nazionale di Intra insieme a due dipendenti. Una troupe delle Ieni era presente ieri a Verbagna, da quel che siamo riusciti a ricostruire, Agresti che era stato l'autore del servizio nel 2013 sempre nel programma TV di Taglia 1 sui debiti del Verbagna Caccio, è tornato sul lago proprio per cercare di capire se quei debiti della società a quel tempo di Enrico Montani siano stati saldati o meno. Nella sua tour a Verbanese però l'inviato delle Ieni avrebbe anche fatto tappa a Palazzo di Città per intervistare la sindaco Silvia Marchionini, sempre per il tema dei crediti vantati dal comune nei confronti del club bianco cerchiato ed avrebbe anche intervistato l'ex segretario cittadino della Carroccio Roberto De Magistris. Non è invece per ora stato sentito lo stesso a Montani. Alle Iene non interessa la verità, ci ha dichiarato il neosenatore leghista. Possibile che il servizio venga mandato in onda nel corso della prossima puntata delle Iene.